Fratelli e sorelle, in questi giorni a Roma ci sono state tensioni piuttosto forti tra residenti e immigrati. Sono fatti che accadono in diverse città europee, specialmente in quartieri periferici segnati da altri disagi. Invito le istituzioni di tutti i livelli ad assumere come priorità quella che ormai costituisce un'emergenza sociale e che, se non affrontata più presto e in modo adeguato, rischia di degenerare sempre di più. La comunità cristiana si impegna, in modo concreto, perché non ci sia scontro ma incontro. Cittadini e immigranti con i rappresentanti delle istituzioni possono incontrarsi anche in una sala della parrocchia e parlare insieme della situazione. L'importante è non cedere alla tentazione dello scontro, respingere ogni violenza. È possibile dialogare, ascoltarsi, progettare insieme e in questo modo superare il sospetto e il pregiudizio e costruire una convivenza sempre più sicura, pacifica e inclusiva. Grazie a tutti.